Amici e software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 82esima puntata del podcast di Marcos Box, con il riassunto delle notizie della settimana. Apriamo con questa puntata parlando di una interessante iniziativa promossa da Mozilla Italia in collaborazione con il subreddit Italia Informatica. Mozilla Italia ha avviato un Developer Contest dedicato alla realizzazione di progetti che sfruttino il modello italiano di Deep Speech. Per chi non lo sapesse, è un modello di riconoscimento vocale sviluppato da Mozilla con licenza open source basato su Magic Learning. Su blog trovate maggiori informazioni sul regolamento per come partecipare a questo contest e sui premi messi in palio. Passiamo adesso a una notizia curiosa e a tratti tragica che arriva dal Regno Unito. La Public Health England, un'agenzia esecutiva del Dipartimento della Salute del Regno Unito, ha deciso di utilizzare Microsoft Excel e il formato XLS per il salvataggio dei dati relativi ai contagiati da Covid-19, riuscendo nella poco invidiabile impresa di perdere quasi 16.000 segnalazioni di casi positivi. Il problema nasce dal fatto che hanno deciso di utilizzare il formato XLS per il salvataggio dei dati e un formato generato da Microsoft Excel, un formato molto vecchio, che ha uno svantaggio, quello di non riuscire a gestire più di un tot di un numero di righe dati. Questa limitazione, che non è presente nel più moderno XLSX, ha avuto una conseguenza nefasta. Gli elenchi delle persone contagiate che sono stati esportati in questo formato sono stati troncati, quindi quando si è superato il numero di righe massime, e così si è avuta la perdita di informazioni. Si poteva evitare tutto? Sì, si poteva evitare tutto, evitando di utilizzare Excel, magari utilizzando un database SQL per la gestione. Purtroppo però, l'incompetenza del reparto IT, della Public Health Ingram, ha causato questo passiccio. La cosa triste è che, dopo che si sono accorti dei problemi, anziché correre i pari, mettendo su una struttura diversa, hanno deciso di mantenere lo stesso approccio, ma si sono limitati a suddividere i dati in file più piccoli, in modo tale da evitare di raggiungere il numero massimo di righe. Eh, che dia, sono forrida. Anzi, come direbbe ObeX, sono matti questi inglesi. Passiamo adesso al mondo di GIMP. GIMP questa settimana è tornato ad aggiornarsi con una nuova minor release, precisamente la 2.10.22. Se siete su Linux, l'aggiornamento è già disponibile nel formato Flutter Park. Bene, questa nuova minor release si concentra sulla correzione di bug e offre alcuni miglioramenti al codice di base. Tra le novità di questo rilascio troviamo un miglior supporto al formato HEIC, l'aggiunta del supporto al formato AVIF e miglioramenti nel supporto al formato PSP. Maggiori informazioni le trovate su Marcosbox, dove trovate il link al changelog completo. Chi mi segue da tempo sa che per motivi professionali sono costretto a utilizzare abitualmente Dike, che è un software di firma digitale che, fortunatamente, è disponibile anche in formato DEB per Ubuntu e Debian. Su Marcosbox vedo parlato in passato di questo software perché ho pubblicato alcune guide che spiegano come installare questo software su Fedora. Ho realizzato anche un piccolo script che trovate su Github, che fa tutta la procedura in automatico. Fra l'altro sono anche il nuovo manutentore del pacchetto per Arch Linux, quindi se su Aure cercate di che sono io il responsabile del mantenimento del pacchetto attualmente. Bene, io utilizzo questo software e utilizzo anche Ubuntu, come ben sapete, e tutte le derivate ufficiali. Nel corso degli ultimi mesi mi sono dedicato a seguire lo sviluppo di Ubuntu 20.10 e mi sono accorto, mio malgrado, di un problema riguardante Dike e Ubuntu 20.10. Che cosa è successo? È successo che un file che era necessario per l'installazione di Dike non è più presente all'interno dei repository, un pacchetto non è più presente all'interno dei repository di Ubuntu 20.10 perché è stato deprecato, perché viene utilizzata la nuova versione basata su Python 3 e la versione su Python 2 appunto non è più presente nei repository di Ubuntu 20.10. La mancanza di questo pacchetto, di questa dipendenza che viene segnalata da Dike rende impossibile l'installazione di Dike all'interno di Ubuntu 20.10. Su blog ho pubblicato però una piccola guida che spiega come modificare il pacchetto DEB ufficiale rilasciato dagli sviluppatori di Dike per rimuovere questa dipendenza che praticamente non serve a niente perché rimuovendo questa dipendenza il programma funziona correttamente e quindi grazie a questa guida riuscite a installare Dike anche su Ubuntu 20.10. Speriamo che gli sviluppatori decidano di aggiornare il pacchetto io ho fatto la segnalazione agli sviluppatori però fino ad adesso non ho avuto nessuna risposta o che magari in futuro decidano di rilasciare il tutto sotto formato Snap o Flatpak in modo tale da evitare tutti questi casini sulle varie distribuzioni e sulle varie regasi intermedie di Ubuntu Passiamo adesso a questa seconda parte del podcast dedicata al mondo di KDE e lo facciamo con tre notizie La prima riguarda il rilascio di KDE Live 20.08.2 Questa nuova versione del famoso software di montaggio video introduce diverse nuove funzionalità tra le quali c'è la suddivisione automatica della scena Per il change log completo vi rimando sempre alle pagine di Marcosbox dove trovate le note di rilascio Per ragione di grandi e piccini la community di KDE questa settimana ha ufficializzato il rilascio di KDE Plasma 5.20 La nuova versione migliorata sia dentro che fuori del tanto amato e apprezzato ambiente desktop del draghetto Questa nuova versione contiene miglioramenti a dozzine di componenti, widget ma anche il comportamento del desktop in generale Tante sono gli utili degli strumenti quotidiani che sono stati migliorati come ad esempio la gestione dei pannelli la gestione del task manager, l'area di notifica, lo screen display quando noi andiamo ad utilizzare il volume e cose del genere Miglioramenti in KWIN, miglioramenti nelle impostazioni di sistema nel centro di informazioni Miglioramenti nel supporto a wireland, miglioramenti praticamente in qualsiasi campo di questo desktop environment Su Marcosbox trovate il lungo post dove vi illustro tutte quante le novità di KDE Plasma 5.20 Vi ricordo che in contemporanea al rilascio di KDE Plasma 5.20 Il team di KDE Neon ha rilasciato delle ISO aggiornate della distribuzione KDE Neon 5.20, ribattezzate per l'occasione Che è possibile scaricare se volete provare fin da subito questa nuova versione di KDE Plasma Vi ricordo che l'aggiornamento è ovviamente disponibile anche per gli utenti che hanno installato le versioni precedenti KDE Neon, vi basterà fare gli aggiornamenti di sistema Però fate attenzione nel momento dell'aggiornamento Perché purtroppo c'è un piccolo bug e dovete installare un pacchetto prima di procedere al riavvio Dopo aver fatto gli aggiornamenti Perché se avete una precedente installazione di KDE Neon E lanciate l'aggiornamento senza prima aver installato il pacchetto Neon Settings 2 Vi ritroverete con il desktop senza KWin E quindi sono problemi Su Marcosbox trovate maggiori informazioni su come risolvere questo problema Bene, con questa ultima notizia si conclude qui questa 82esima puntata del podcast di Marcosbox Buonga vita e prosperità a tutti quanti Ci riascoltiamo la prossima settimana con una nuova puntata del podcast di Marcosbox Ciao 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 ciao